Il mio nome è RCZ e sono la prima Peugeot con un nome senza lo zero e mezzo. Sono lunga 4 metri e 29, larga 2 metri e 11 e mi si nota perché sono alta appena 1 metro e 36. Si capisce subito che sono una Peugeot, vero? Però sono anche particolare. Guardate il mio tetto, per esempio. Ne avete mai visto uno così? E anche il profilo non è comune, vi pare? Sono proprio speciale, a partire dal nome. Sono RCZ. Sono insolita e grintosa, ma anche elegante. Mi piace essere abbastanza fuori dagli schemi, distinguermi, essere un'auto di nuova generazione. E dire che la mia famiglia viene da lontano, molto lontano. Due secoli fa, i nonni dei nonni, in quello che era un vecchio mulino, cominciarono a lavorare il metallo. Da prima producendo lame e poi via via ogni genere di attrezzo da lavoro e di utensile per la casa. Poi, dopo aver fabbricato tantissime biciclette, a fine ottocento cominciò l'avventura dell'automobile. Prima di me ci sono stati tanti modelli con il Leone e io oggi voglio rappresentare tutte le qualità manifestate dal marchio durante la sua storia. Con un 1.6 a benzina da 156 cavalli o un 2 litri turbo diesel da 163 cavalli, mi piace muovermi con vivacità in tutte le situazioni stradali. E chi ama le emozioni forti può ascoltare la musica del 1.6 THP da 200 cavalli. Comunque, regalo piacere di guida e gusto per il viaggio, alla scoperta di cose belle, di giorno e di notte. Del resto, con le forme che ho, è chiaro che nelle mie vene scorre anche sangue sportivo, che fa parte della storia di famiglia. Già tanti anni fa i miei antenati correvano e vincevano, a Indianapolis, alla Targa Florio, per poi vivere tutte le stagioni dei rally da quelli africani fino alla stagione d'oro della mia grande nonna 205 Turbo 16. Io non sono proprio da corsa, ma quelle esperienze mi hanno lasciato il gusto per la tenuta di strada, l'affidabilità, la sicurezza, anche sulle strade tortuose. E se mi piacciono i lunghi viaggi, forse lo devo alle grandi gare di durata, specialmente la fascinosa 24 ore di Le Mans. Questa tradizione sportiva me la sento addosso nella sicurezza con cui affronto le curve. Come scatto, come freno, come tengo la strada, anche grazie all'aerodinamica. Ma quella sportiva non è la mia sola anima, sono una Peugeot, che da sempre vuol dire anche comfort, eleganza e accuratezza nei dettagli. Chi sceglie di viaggiare con me, voglio che si senta comodo, con tanti accessori a disposizione, in un abitacolo curato nei particolari e disegnato per essere confortevole e con equipaggiamento completo. Al passeggero e a chi si siede al volante, assieme alle emozioni in movimento, mi piace offrire sicurezza e comodità. Insomma, sono un concentrato di emozioni, con il gusto di guardare in alto, molto in alto. E sono anche piuttosto ambiziosa, mi piace piacere. E tutto questo non per pochi, perché non voglio essere per pochi. Date un'occhiata al listino prezzi. Per meno di 28.000 euro posso venire a vivere nel vostro garage. Grazie a tutti.